buongiorno buongiorno a tutti amici allora in questa giornata molto molto pregna di attenzione di pregna di qualsiasi cosa perché alle 6 alle 7 alle 19 di questa questa giornata 19 ora locale qui in italia verrà trasmesso su youtube la premiere del video dei maneskin di cui abbiamo visto alcuni frame che hanno già mandato invisibilio tutto il web praticamente lo il frame in cui victoria facolare un velo di saliva su ita ha mandato invisibilio allora instagram lode sperticata ovunque invece facebook infamia praticamente ecco si dividono facebook infamia e instagram è stata lodata questa cosa qui ma dopo questa breve introduzione ne volevo parlarvi e non non è non è un caso perché comunque le due cose c'entrano volevo parlarvi della nuova edizione dell'axe dei black sabbat di dall'album sabotage sabata sabotage del 75 che si credo 75 76 comunque non è importante allora l'unbox di questa nuova edizione dell'axe la potete trovare sul canale di metalitalia.com molto fatta bene l'unboxing per quanto riguarda i contenuti quello che contiene la scatola io vi posso dire che il box è fatto bene è molto alto perché i cd i cd non sono stretti la case dei cd in carta non è stretta è un po più alta è la prima volta che vedo una cosa del genere ogni singolo cd sono quattro c'è l'album due cd per un live e la copia in cd del vinile del singolo going insane radio giapponese e ogni sono quattro cd e sono molto alti sono alte queste cose qui e dentro c'è una carta velina trasparente che copre il cd quello è molto fatto bene è molto molto fatto bene e anche il libretto è bello grosso il libretto c'è un sacco di roba da leggere un sacco di fotografie e un sacco di roba di quel periodo lì molto fatto bene e ci sono un sacco di ritagli di giornale e un ritaglio del giornale intitolava sabotage con due b tanto che mi ha fatto pensare all'inizio non non avendolo guardato bene che pensavo che magari il titolo originale dell'album avessero intitolato sabotage da sabbat no con due b e sarebbe stato anche bello no perché e allora capisci no dove giocano i nomi i sepultura che hanno fatto seppul nation seppul quarta e tutte queste cose qua no sabotage con due b bellissimo sarebbe stato bellissimo come come titolo dell'album avrebbero unito la sabbat che poi l'avevano già fatto no è per quello che mi è venuto in mente perché avevano già fatto sabbra sabbra cadabra avevano già fatto sarebbe stato bellissimo che l'avessero intitolato sabotage comunque hanno messo sabotage normale sabotaggio perché probabilmente avevano più interesse a far prevalere quell'aspetto lì del del contenzioso con la casa discografica comunque io allora io vi invito a ad ascoltarlo e a prenderlo questo 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 cofanetto perché il mix il mastering è del 2020 cioè recentissimo insomma del 2021 2020 l'ultimo recentissimo ed è si sente bene insomma è potenziato abbastanza e più che potenziato più che potenziato io l'ho trovato e qui attenzione perché questa cosa ve la posso dire solo io non la trovate in nessun altro video sfidate qualcuno a trovarlo lo dico solo io perché solo io posso dire queste cose qua perché io sono Evan sono Massimo Baldo il mastering di questo di questo album qua questa versione qui del 2020 è la prima che è che ha hanno realizzato un suono un po più morbido rispetto alle altre edizioni questo disco qua aveva un suono quadrato tagliato durissimo durissimo aveva un suono durissimo durissimo sulle orecchie spaccava spaccava le orecchie avevano tutti tutte le tonalità della chitarra dei più alti dei medio alti degli alti le hanno masterizzate nelle altre vecchie edizioni durissime troppo dure troppo dure per vabbè per un album metal è normale che siano due però questo è qui entra in gioco il mio gusto personale il mio gusto personale che comunque non è che sia sbagliato nel senso che ci sono tantissimi durissimi heavy metal che hanno un suono molto morbido ruzzo di sepoltura da lì in poi da lì in avanti ecco anche lo stesso 13 dei Black Sabbath ha un suono molto morbido ecco con questo mastering del 2021 hanno fatto un lavoro che hanno smussato tutti quei picchi alti che rompevano i coglioni solo rompevano solo i coglioni alle orecchie perché io a me piace ascoltare bene gli album su un impianto stereo che è molto di qualità e questa versione qui è tutta più arrotondata è molto arrotondata molto morbida e non non disturba assolutamente e rimane potente rimane potente alla grande quindi hanno fatto questo questo lavoro di precisione tagliando un po' quelle quelle robe dure che c'erano quelle frequenze ammorbidendole rendendolo veramente un mastering finalmente finalmente degno di un album del genere perché perché hanno arrotondato gli alti hanno arrotondato gli alti della batteria hanno arrotondato gli alti della chitarra hanno già il basso e la chitarra bassa erano arrotondate di suo ma li hanno resi ancora più morbidi ancora più caldi e hanno reso caldo questo album qui che prima era stra freddo e non va bene la freddezza su troppo freddo su questi su questi rischi qua perché i black sabbath hanno un suono caldo già da di partenza e il mastering delle altre volte erano sbagliatissimi e invece questo veramente una figata e poi allora passiamo ai contenuti ecco i contenuti questa è la peculiarità di questa edizione qua poi c'è i due dischi live del nord america che vanno veramente finalmente finalmente dei live che si sente bene questi due dischi cd dei live del nord america sono strabilianti strabilianti suonano benissimo sono presi direttamente dal soundboarding mixati benissimo guarda una potenza in audita e lo potete constatare o potete constatare quando c'è l'intro di black sabbath nel secondo disco potete constatarlo su all in the sky la prima traccia tutte le tracce suonano benissimo zozi canta da dio sono tutti e quattro alla grande veramente e e poi guarda una una potenza due jam lunghe un quarto d'ora probabilmente tutte e due insieme tra cui ci sono vari pezzi di di assolo di chitarra assoli di batteria e incursioni di altri pezzi strumentali, solo strumentali, dei clip eccetera, dei frame in cui fanno vedere come suonavano bene questi qua all'epoca, erano veramente amalgamati bene erano una band che proprio in questo tour del Nord America non hanno mai suonato così bene forse forse non hanno mai suonato così bene e poi guardate dovete sentire appunto che lo capirete quando sentirete l'arrivo di Children of the Grave e anche Orchid all'inizio che fa, Tony Yomi fa quella bellissima melodia di Orchid che precede appunto Children of the Grave e la suona molto bene con la chitarra ok, però qua devo dire, devo aprire una piccola parentesi perché quella melodia è bellissima però è tutta arpeggiata e nonostante insomma l'aveste provata un po' di volta, ancora un po' si incarta, ecco vedete questo incartamento delle dita di Tony Yomi, della mano destra quando fa l'arpeggio, non quelle purtroppo mutilate questo incartamento qui è lo stesso incartamento che si può sentire anche da sui test dei Led Zeppeli quando fa la chitarra acustica che si incarta un po' quando fa quelle cose lì del terzo album e lo vorrei in attimo, dovete accettarlo, dovete accettarlo, lo dovrei in attimo mettere in confronto con come suonava Mike Oldfield quando aveva 16-17 anni nel 68 Mike Oldfield suonava la chitarra acustica, potete andarlo a sentire nelle tracce che ci sono trovati su youtube che si chiamano Balloon e che sono presenti nel, porco cane non mi ricordo i titoli di queste tracce, comunque sono due tracce strumentali di solo Mike Oldfield del 68 presenti nell'album Sally Angie, il primo album che ha fatto con la sorella Sally Oldfield, le trovate, se fate una piccola ricerca trovate quelle due canzoni, quelle due tracce che sono nel secondo cd di Sally Angie, l'ultima edizione del 2002 e sentirei da un Mike Oldfield giovanissimo 18-17 anni, prima di Turalberge, 16 anni, che fa delle robe allucinate con la chitarra acustica e sentirete la leggerezza e la velocità con cui suona, leggerezza e velocità e armonia che non sono mai state eguagliate dai chitarristi che abbiamo osannato, che avete osannato negli ultimi 40 anni, qualsiasi chitarrista acustico non riesce ad eguagliare quella bravura lì di Mike Oldfield che è registrata in quelle due tracce lì, specialmente, purtroppo mi tocca dire, Tony Iommi e soprattutto coso quello del Zeppelin che mi sfugge il nome e sono contento che mi sfuga anche in questo momento perché tutti quanti si ricordano di lui ma nessuno si ricorda mai di Mike Oldfield. Chiuso queste apparenze e potete anche sentire Fluff in cui Tony Iommi cerca di fare una bellissima musica strumentale, è bellissima, a me piace tantissimo ed è stato anche troppo bravo a farlo da sola, Fluff, Tony Iommi, però possiamo mettere a confronto anche Philip Glass, non so perché mi viene in mente Philip Glass, ma una dolcezza assurda, ma poi appunto torniamo al vero potere dei Black Sabbath, ineguagliato, questo sì completamente ineguagliato, quando arriva Children of the Grey su questo live che dovete assolutamente sentire, una grossezza del suono tra basso e chitarra, una devastante, questo riff che si rotola su se stesso, questa melodia di Children of the Grey che credo sia la canzone, dopo che avete sentito questo live qua, è la canzone più potente, più esaltante, più gasante che vi sia mai capitato di sentire, perché è veramente gasante questa canzone qua, è una roba che tipo yeah, così no, tipo una roba proprio assoluta, proprio quell'accentazione di gaso totale ve la dà questi riff in sequenza che sono incredibili, incredibili, se ascoltate la melodia di Ozzy, quando l'hanno registrata, era ancora, e anche in questo live, non è che tira tantissimo, tira in più in altri pezzi, come Megolamania, oppure On The Sky tira di più, qua invece è un po' più calmo, un po' più posato, e quella melodia lì è perfetta, però se avesse avuto un po' più di maturità, forse due o tre anni in più di maturità, forse l'avrebbe fatta con qualche nota molto più in alto, avrebbe fatto delle variazioni un po' diverse, piuttosto che farla in maniera sempre posata lì, che è già perfetta così, ok, però non è che dia spazio a quel salto, quel salto in cui dice hole in the sky, quella roba lì, tira su tantissimo lì, no, su questa canzone non ci sono questi scatti in alto, e quindi questa è proprio l'unica pecca che riesco a trovare in questa canzone, che ha quel riff velocissimo e poi quel riff funereo in mezzo, ma una roba che io mi domando sempre, come diavolo, come diavolo ha fatto Tony Yomi nel 70, 71, 72 a fare quei riff lì, che non c'era niente, non c'era niente al mondo di così simile, ecco, e lui è riuscito a fare con quella pesantezza di suono, già subito aveva inventato, aveva già centrato, senza possibilità di scampo, la roba più potente che potevano fare, perché dopo possono arrivare gli slayer, possono arrivare i cani of the corpse, possono arrivare... no, per quanto veloci possono andare, per quanto esaltanti possono essere, c'è un limite che... entro il quale la velocità, la velocità se aumenta, non è detto che aumenti anche il grado di gasamento, e il grado di gasamento qui è espresso proprio al suo massimo potenziale, con una velocità media, con un riff che si arrotola su se stesso, è melodico, ma che è più esaltante, più cattivo, più inglobante di qualsiasi cosa, e quindi mi domando come abbia fatto lui a trovare queste soluzioni melodiche, allo stesso tempo devastanti, quando non c'era niente attorno, non c'era niente attorno, cioè io penso che sia Tony Iommi sia nato nel 2020, e abbia fatto un viaggio indietro con la macchina del tempo di 50 anni, l'unico al mondo che ha fatto un viaggio indietro con la macchina del tempo 50 anni prima, per fare queste cose qui, l'unico nel 70 che faceva queste cose qua, e poi accompagnato dalle melodie perfette di Ozzy, perché dopo quando arriva Dio, questa cosa svanisce nel nulla, cioè proprio non ci sono più, quando cominciano a fare Heaven and Hell, che già il fatto che si pensi a un album hard rock pensando a Heaven and Hell, cioè già è un passo sotto, è un passo sotto, e poi tutti gli altri hanno fatto con questo cantante che urla a squarciagola come un'operetta, è una roba ridicola veramente, io veramente non sono assolutamente fan di Ozzy, e Ozzy d'altra parte quando è andato da solo ha perso la strada, perché non ha più fatto melodie vocali come quelle che faceva prima, che sono quelle che veramente continuiamo ad ascoltare, quindi io non riesco a capire chi dice che il repertorio di Ozzy è migliore di quello con i Black Sabbath, quello non riesco proprio a capirlo, non sta né in cielo né in terra, per quanto buone siano, per quanto abbia fatto bene, perché ha fatto dei tour, ha fatto dei dischi, insomma è diventato famosissimo, bla bla bla, tutte queste cose qui, ma è un po' come quando Renga lascia il timoria e va a fare le canzoni della mamma, della mamma, hai capito? Tutte belle tecniche, più belle, con la super band dietro, e tutte queste robe qua, ma no, ma non importa, cioè non è quello appunto, non è quello, non vale quella roba lì, tutti i dischi di Ozzy in confronto ai dischi dei Black Sabbath che hanno fatto assieme prima, cioè non valgono niente, ma proprio niente, zero, e per quanto abbia trovato di chitarristi bravi, bla bla bla, ma non hanno inventato niente a questi chitarristi qua, cioè neanche hanno inventato chissà cosa, poverino, coso lì, a cavoia, a Reddy Rhodes, poverino, che cazzo era, che bravissimo, poverino, era super bravo, ma andava su un genere, sul progr, sul classico, queste cose qui, che dopo non perdono, fanno perdere pesantezza, fanno perdere, comunque ha fatto dei riff bellissimi anche lui, per carità, però sono un mezzo gradino sotto a quelli che ha fatto Tony Yomi, e Tony Yomi si è perso, e tutti quanti si sono persi dopo che sono sciolti, sono ritornati un po' assieme, sono ritornati nella magia quando hanno fatto 13, che gli ha riuniti, anche appunto che si sono tutti riuniti, tranne Bill Ward, e parliamo anche adesso della batteria di Bill Ward, perché quello era anche un problema, fino agli anni 70 Bill Ward era bravissimo, era stupendissimo, e mi sembra di ricordare il live di Black Sabbath, la canzone, quando lui alla fine, nel tour di questa edizione qui, sbatte sempre, tutto dritto, il rullante, il rullante, e questa cosa qui non l'aveva fatta tante volte prima, e probabilmente nessuno, non tanti l'avevano fatta questa cosa qui, di sbattere il rullante, probabilmente dopo qualcuno l'ha sentito, perché il rullante si alternava sempre la cassa, invece lui sbatte sempre il rullante, 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 era la prima volta che si sente il rullante, 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 perché poi questo poi darà vita al trash, darà vita al trash, questa cosa qui, si accorgeranno che sbattere il rullante sempre, va bene, e dopo si accorgeranno, ma perché non ci mettiamo anche la cassa in più, e allora viene fuori il trash, ecco, quindi un'ora a Bill Ward, che purtroppo non ha saputo, non ha saputo tenere il passo con i tempi, per qualche motivo, per qualche motivo sapevo tutti i droghe, robe, eccetera, non ce l'ha fatta a sostenere, tutti gli anni dopo dei Black Sabbath, nessuno ce l'ha fatta, ce l'ha fatta solo Tony e Gisler, nel senso che poi Ozzy è stato tenuto in vita dalla sua moglie praticamente, ma gli unici che ci hanno fatto da soli sono Gisler e Tony, comunque quando si sono rincontrati, avrebbero potuto dare almeno la possibilità a Bill Ward di registrare sull'album, avrebbero potuto dire, ok Bill ti facciamo registrare sull'album, così abbiamo l'album con la formazione, originale che non morirà mai, però in tour mi dispiace, non ce la fai, non ce la fai, ti lasciamo a casa, anche per il tuo bene, e prendiamo un altro batterista, avrebbero fatto il batterista, avrebbero fatto il tour con un batterista che non mi ricordo neanche chi cazzo è, anche se comunque ha emulato benissimo Bill Ward, però avrebbero potuto vantare, 13 nel 2013, nel loro ultimo disco, avrebbero potuto vantare di avere il batterista originale, cazzo, cazzo, avrebbero potuto dargli anche un po' più di soldi, se volevano un po' più di soldi, avrebbero guadagnato più coppie, perché sono sicuro che alcuni non hanno comprato quel disco là, perché hanno detto, hanno eliminato Bill Ward, che è bravissimo, sono sicuro, vabbè, è andata così cazzo, è andata così, e Bill Ward avrebbe suonato benissimo in 13, perché ce l'avrebbe fatta, perché gli studio riescono a fargli fare quelle cose lì, riuscivano a fargli fare, se riescono a farlo fare all'Ars Ulrich, che insomma, no, per carità io adoro l'Ars Ulrich, è il mio batterista preferito, voglio dire che adesso con le tecniche che ci sono, con il Pro Tools, quelle robe lì, Bill Ward, l'Ars Ulrich ce la fa, ma Bill Ward poteva anche, poteva anche farglielo fare, benissimo, quindi io vi consiglio assolutamente questo, questa deluxe di Sabotage, perché veramente è gasante, è allucinante, è fantastico, merita i soldi che spenderete, anche se sono 20 euro a CD, porco cane, forse l'ultimo CD, quello con due canzoni, avremmo potuto risparmiarselo, va bene, però hanno voluto fare le cose fatte bene, tra virgolette, e quel CD lì ci stava, perché sennò, dove mettevano quelle due canzoni lì, del singolo di Am I Go Insane, dove mettevano, poi comunque è fatto anche bene, perché dietro c'è la replica esatta, dell'LP, o dell'Easy Play, adesso non mi ricordo se è un grande o piccolo, comunque c'è, dietro c'è tutta la roba in giapponese, con i due testi anche in inglese, quindi è bellissimo da avere, allora con questo vi saluto, vi auguro buona giornata, e stasera alle 19, vedremo un nuovo video dei Maneskin, e non trovo molta differenza, tra il suono dei Maneskin e il suono dei Black Sabbath, e questo non deve essere una roba al contrario, cioè una roba denigratoria per i Maneskin, anzi, ci deve far pensare che adesso c'è un'altra nuova band, che sta facendo quello che già, le Zeppelin, Black Sabbath, avevano fatto negli anni 70, e che adesso abbiamo la possibilità di vedere una nuova band, che sta facendo la stessa cosa, al top, sta facendo la stessa cosa, sta portando la libertà del suono rock, del rock, di nuovo per i parchi, e questi sono giovanissimi, esattamente come i Black Sabbath erano nel 1969-70, ciao a tutti amici, buona giornata.